E' qui con noi per la prima volta alla televisione italiana Frank Zappa Ecco Frank Zappa accompagnato da Francesco Sanaviette, l'ideatore di Rockstar Hi Frank Why did you choose Capri and Ana Capri to present your video? Because you need it Voi avete bisogno, ho chiesto appunto perché ha scelto Ana Capri per presentare la sua ultima video, la sua ultima cassetta, perché ne avete bisogno? What did you get from Ana Capri about Sensation? Cosa hai ricevuto da Ana Capri? You won't believe this but I have a sunburned nose Non ci crederete ma il suo naso è bruciato